Tesoro, ascolta, ma hai fatto disegno preparatorio? Il volto è sollevato verso l'alto. Tu supponi anche che il disegno preparatorio sia giusto? No, ragazze, un altro bianco e nero e io mi sparo. Esatto! Esatto! Ma stiamo già migliorando. Allora, rifacciamo queste le esperte. Ma non tirai d'accordo sulla base di quello che ti senti. Per far meglio possiamo far meglio. Ti scrivo la lista di qualche cosa a fare. È un ossessione, non è un stile, è ossessione. Cacciamo le altre bestie. Possiamo chiamare le cose con il loro nome. Chiamiamole le cose con il loro nome. Questo è un ossessione. Io non... C'era una cosa, io ce l'ho perfetta. E quella è il dito. E certo parlo del terzo, lo scherzo. Sembra scolpito dito. Che con un certo punto di vista è il mio migliore amico. Se la mia immagine non la soddisfa. Guardi il dito e guardi...